Ciao dai messaggeri del mare e oggi siamo qua a Genova, io, Lionel, Marco e Alberto per nuotare per i bambini dell'ospedale Gaslini. Questi bambini, che sono vittime della negligenza degli adulti, subiscono le conseguenze di inquinare il mondo, il mare, quindi noi vogliamo portare la purezza del mare nei loro cuori. Noi nuotiamo senza muta estate ed inverno e soprattutto in inverno, quando il mare è in movimento, quando piove, quando nevica. L'inverno il mare ha un'energia straordinaria, ci trasmette veramente la sua essenza. Siamo testimonia di progetti importanti con la consulta ambientale di Firenze, nuovi ritmi a scuola di Rosignano e il mare bambino. L'importante è non più pensare a prendere qualcosa del mare, ma dare. L'importante è come si entra l'approccio del mare. Noi nuotiamo vicino a loro, per qualunque convenienza siamo qui. Non abbiamo notato lente, di gran fondo, dove noi passiamo più tempo possibile in mare. Il nuoto di fondo in inverno richiede non solo di affrontare il mare senza muta una temperatura di 11 gradi per un chilometro e mezzo. Bisogna anche comprendere le correnti per dosare al meglio le energie. Insieme ad Alberto accompagno i messaggeri del mare durante le loro nuotate per fare sicurezza. Essendo un subacqueo, osservo con particolare interesse quello che il mare mi propone. Durante questa nuotata ho osservato popolamenti bentonici, spugne, ricci e quant'altro. Ma soprattutto ho potuto con dolore osservare anche qualche forma di inquinamento. Soprattutto le plastiche grandi e piccole. Le microplastiche sono un problema particolarmente dannoso per i pesci e per tutti gli animali del mare. Ingerendole hanno effetti devastanti. Il mare è solo moderatamente mosso, ma la corrente proviene da sud-est. Costa e Carden si adattano al meglio alla giornata. E in meno di un'ora raggiungono la spiaggia di Sturna, dove sono attesi dai bambini delle scuole. Quando era troppo freddo? 10 gradi. L'importante è un attimino andare lentamente. Un bel saluto al mare! Ciao! E da quel momento abbiamo sempre nuotato insieme. Volevo chiedermi anche, da bambino immaginavi di arrivare a questo traguardo? Il mare non è, non bisogna mai sfidare. Noi siamo ospiti. Se trovate un pezzo di plastica nel mare, prendetelo e portatelo via. E poi sono tutte oggi bellissime le sirene. Oggi era una giornata un po' così, senza troppa luce, un po' turbido. Però è sempre un bel mare. Come dicevo, tante ore passate in mare, riusciamo a capire realmente che quelle che possono sentire le nostre mammifere in questo mare, in questo santuario. Perché qua siamo proprio in mezzo di un santuario di città. E noi riprendiamo dentro di noi questa energia molto forte che ci darà l'equilibrio per andare avanti nella vita. A presto. A presto.